La Sardegna nel primo trimestre del 2016 ha fatto registrare una crescita modesta degli appalti pubblici e una fortissima contrazione del valore dei bandi, e quanto emerge da una ricerca del centro studi della CNA Sardegna, i cui dati confermano una situazione difficile e volatile per il mercato delle opere pubbliche. Con 341 gare promosse, si legge nella nota, si confermano i bassissimi livelli del 2015, mentre l'importo di 84 milioni di euro prevede una variazione negativa del 53% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Questa nuova fase di incertezza, sottolineano Francesco Polco e Mauro Zanda, rispettivamente segretario regionale della CNA Sardegna e presidente di CNA Costruzioni, arriva dopo una fase di espansione registrata nel 2015, quando le 1.298 gare promosse erano cresciute del 19% rispetto al 2014, e la spesa, pari a 989 milioni, era aumentata del 59%. Ma anche questi dati, sottolineano i dirigenti della CNA, non descrivevano un mercato in buona salute perché arrivavano dopo un 2014 negativo. La crisi generalizzata dalle gare di tutte le tipologie dimensionali è particolarmente visibile nella riduzione di risorse per i grandi lavori, scrive la CNA. Sono stati promossi solo 30 e 20 sopra i 5 milioni di euro contro i 7 dello scorso anno. In questo primo scorso del 2016, conclude lo studio della CNA, l'unica tipologia di opere a crescere è quella di microinterventi di importi inferiore ai 150 mila euro, principalmente ad opera dei comuni. Ma anche per questo tipo di appalti il valore delle gare è diminuito del 4%. Questo testimonia la difficoltà generalizzata in termini di risorse che hanno le amministrazioni pubbliche attive in Sardegna.